Mi chiamo Taylor. Sono lo chef personale di Marcos. Gli preparo da mangiare e seguo la sua alimentazione. Non mangia sano se lasciato a se stesso, quindi avere me come cuoco aiuta a inculcargli le buone abitudini quando si tratta di nutrizione. Mi piace mangiare al McDonald's, molto. La colazione, le salsicce McMuffin con le uova. Salsicce McGriddle. Oh, anche! Di solito sono libero il lunedì. È il mio cheat day. E fin da bambino adoro la colazione del McDonald's. È il mio piatto preferito. Per cui lunedì mattina sono sempre lì. Salsiccia con le uova. Troppo buono. Ma gli altri giorni mi fa rigare dritto.